come va come va e siamo siamo sempre qui radio quarantina un altro sabato siamo il 4 aprile qui dalla terza settimana proiettiamoci verso la quarta settimana di solamente qui a campo z a 6 z e stasera you know the drill come si dice dalle parti mie un po' di vibrazioni in sovrimprezione c'è un conto al quale potete mandare dei soldini per aiutare chi sta in difficoltà in questi giorni ovviamente è la zona di salerno massimo rispetto alla z o a Grazie a tutti. 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 Andiamo un po' Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. No war. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In this time I say In this time I say There is no need for black and white for suffice There is no need for black and white for suffice In this time In this time Please and love is what we need in this time If we're dealing with four steps In this time In this time If we're dealing with four steps In this time 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 This is Struggle Ancora di Mama don't you wait so long I see you've been holding on Sister don't you wait so long I've seen all your trouble I've seen all your trouble So much So much So much So much So much Struggle I've seen all your struggle I've seen all your struggle Yeah, 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 yeah Grazie a tutti 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 Grazie a tutti